INDAP INDAPENDENZIA! Il problema non è la Catalogna, il problema è l'involuzione democratica dello Stato spagnolo. Il governo adesso arriva tardi per ricuscire niente, ormai il tempo del dialogo è finito. Non è una questione economica, è una questione di dignità e rispetto. La polizia, hanno detenuto i nostri funzionari, è troppo tardi, hanno oltrepassato la linea, veramente. Non si tratta di un solo colore politico, si tratta di gruppi di destra, di sinistra e di persone, come tanti di noi, che non hanno nessun colore politico. Io sono sicura che il popolo catalano sempre sarà disposto a trovare una soluzione pacifica, perché è un popolo pacifico. Barcellona e Madrid si gioca ancora? Ci troveremo una Champions League, certo, saremo tutti nella Champions. Ci sono, per esempio, la Lega Francese di Calcio ha offerto molti soldi perché il Barcellona vada là. Soprattutto finalmente avremo una nazionale per chi ti fare e poter andare al Mondiale e gli europei.